buonasera a tutti a tutti benvenuti al secondo incontro dei giovedì del parri eh stasera presenteremo il libro di Gianluca Fantoni storia della brigata ebraica e dico subito che stasera c'è un inedito cioè noi abbiamo eh registrato la il dibattito la presentazione perché il l'autore Gianluca Fantoni in quest'orario preciso era impegnato nella sua università a Nottingham eh per le lezioni e dunque adesso eh vi mostreremo la la registrazione del della presentazione che abbiamo fatto alcuni giorni fa insieme a Chiara Colombini e a Marco a Mirko Carrattieri e la registrazione eh dura un'ora e quattro minuti poco più di un'ora eh dopodiché il l'autore eh Gianluca Fantoni eh sarà con noi si ricollegherà in diretta e quindi avremo eh avrete l'opportunità di eh porre domande attraverso la chat all'autore eh buon pomeriggio a tutte e a tutti benvenute al secondo incontro dei giovedì del Parri eh con molto piacere che vi presento l'ospite di oggi Gianluca Fantoni storico italiano che lavora in Inghilterra laureato in storia all'Università di Firenze lo dico che la mia università anche vengo da lì anch'io mi fa piacere ricordarlo la dottorato di ricerca eh in Scozia eh forse con l'amico Philip Cook a Strathcliffe University e insegna attualmente storia contemporanea presso la Nottingham Trent University eh ha pubblicato eh lo scorso anno un volume in inglese di grande interesse Italy to the Red Lands Italian Politics and Society in Communist Propaganda Films eh edito da Paul Grave ma oggi è con noi per nuovo libro molto importante molto interessante libro pubblicato dai Naudi all'inizio di quest'anno la storia della brigata ebraica gli ebrei della Palestina che combatterono in Italia nella seconda guerra mondiale a discuterne eh con lui eh presento subito eh Chiara Colombini storica ricercatrice dell'Istituto della Resistenza di Torino membro del comitato scientifico dell'Istituto Nazionale Ferruccio Parri eh Chiara Colombini è una studiosa della Resistenza ha curato con Aldo Agosti eh nel duemiladodici un volume importante su resistenza autobiografia della nazione uso pubblico rappresentazione e memoria e ha pubblicato lo scorso anno un altro volume eh in questo caso è di cui autrice non curatrice anche i partigiani però un volume all'interno della collana la terza fact checking che abbiamo avuto il piacere di presentare e discutere appunto lo scorso anno nell'ambito dei giovedì del parri insieme insieme a Chiara eh abbiamo Mirko Carattieri che vanta un lungo percorso nella nella rete degli Istituti della Resistenza ricordo brevemente che è stato presidente dell'Istituto della Resistenza eh di Reggio Emilia dal duemilanove al duemilaquindici direttore del Museo di Montefiorino direttore generale dell'Istituto nazionale Parri e anche Mirko è un esperto fra le tante cose un esperto di storia della Resistenza ha curato lo ricordo con Marcello Flores il volume La Resistenza in Italia storia memoria storiografia e eh ricordo poi ehm più recentemente lo scorso anno eh il volume curato insieme a Iara Meloni partigiani della Wehrmacht disertori tedeschi nella Resistenza italiana che è un volume che insomma ha aperto un filone di ricerca e di confronto molto interessante appunto sui soldati della Wehrmacht che poi avevano disertato e eh molti di loro si erano uniti alla Resistenza italiana eh benissimo quindi siamo siamo pronti siamo presentato tutti e eh quindi procediamo adesso il programma prevede l'intervento dei nostri relatori che io ringrazio per aver accettato l'invito di confrontarsi su questo libro prima Chiara Colombini poi eh Mirko Carrattieri eh dopodiché avremo un spazio per la replica dell'autore Gianluca Fantoni e insomma e poi ci confronteremo su questo libro che è veramente una pubblicazione importante mh Chiara prevede ti passo la parola. Grazie e buonasera a tutte e tutti. Io comincerei con il dire che per me leggere il libro di Gianluca Fantoni è stata un'opportunità preziosa perché mi ha dato modo di avvicinarmi a una storia che conoscevo più per le polemiche legate all'uso pubblico e all'uso politico della storia della brigata ebraica che non per la storia della brigata ebraica in sé. e siccome questa partizione storia della brigata ebraica è storia della sua memoria è proprio quella attorno a cui Fantoni ha articolato il suo ragionamento questa stessa suddivisione abbiamo pensato di utilizzare per la discussione. Io credo intanto che questo libro meriti alcune considerazioni certamente dal punto di vista dei contenuti ma anche sul piano della forma e a partire dalla scrittura che non è soltanto scorrevole direi che è proprio avvincente però in fondo la capacità di scrittura è un talento personale non è tanto un merito. Credo che vada invece sottolineato un merito più propriamente inteso e mi riferisco alla costruzione narrativa del testo perché credo che renda evidente lo sforzo comunicativo che attraversa tutte le pagine del libro. È uno sforzo che emerge in primo luogo dalla premura di non dare niente per scontato, di cercare di accompagnare il lettore con definizione di base dei termini più specifici e anche con precisazioni sull'accezione con cui vengono usati nel testo, da sionismo, antisemitismo, più puntualmente agenzia ebraica, ishuv, alaia e così via. Può sembrare un aspetto banale, in realtà credo sia indice del fatto che questo libro intende proprio consegnare al lettore degli strumenti, degli elementi di conoscenza per comprendere una vicenda che non è così nota e che è più complessa di quanto possa apparire. E soprattutto credo che intenda fornire strumenti appunto per orientarsi in modo razionale nelle questioni più spinose che circondano la brigata ebraica nel dibattito pubblico e in modo razionale perché fondato su basi storiche e storiografiche. Lo sforzo comunicativo è evidente anche nella scelta di catturare l'attenzione del lettore introducendo le diverse parti con una specie di giallo che ha per protagonista un tenente della polizia militare britannica, Barclay, che nell'aprile del 46 si trova a indagare, per la verità senza grosso successo, su una nave attraccata nel porto di La Spezia che deve portare in Palestina profughi scampati alla Shoah. Ha un primo sguardo, è una vicenda che tocca solo tangenzialmente il cuore del libro, ma di fatto riesce a restituire secondo me con grande efficacia la complessità del contesto in cui la brigata ebraica si muove, che è un contesto affollato da una molteplicità di protagonisti e anche da una molteplicità di interessi divergenti. Ma poi su questa scelta narrativa vorrei che intervenisse direttamente Fantoni. Ancora una cosa sulla forma, è un libro che colpisce per la chiarezza e per la sinteticità, proprio intesa come capacità di andare dritta al punto, ed è un aspetto che colpisce ancora di più perché si misura appunto con un nodo caldo del dibattito pubblico. In apparenza è un libro semplice, così arrivo ai contenuti. Solo in apparenza però, perché per ricostruire la storia del Jewish Brigade Group e poi la costruzione della sua memoria nel dopoguerra in Israele e anche fuori da Israele fino ad arrivare all'Italia, Fantoni ha dovuto attraversare un panorama storiografico veramente ampio, come ovvio la storia militare della Seconda Guerra Mondiale nei contesti specifici del Medio Oriente, dell'Africa Settentrionale e dell'Italia, ma anche la storia della Palestina mandataria e del rapporto intricato tra i suoi protagonisti, quindi ebrei, arabi, autorità britanniche. Ciascuno peraltro tutto fuorché monolitico al proprio interno per scopi, obiettivi e anche pratiche. Si è dovuto occupare della storia del sionismo e delle sue anime, della creazione dello Stato di Israele e anche del suo complesso rapporto con la memoria della Shoah, che passa attraverso il confronto tra ebrei di Palestina e ebrei della diaspora. Si deve occupare, si è dovuto occupare della storia del conflitto arabo-israeliano, che si intreccia poi con la storia della memoria e anche con la storia della storiografia israeliana, con il ruolo dei new historians che tra la fine degli anni Ottanta e l'inizio degli anni Novanta mettono in discussione i miti originari del sionismo e poi con la successiva vag neo-sionista, potremmo dire. Allora, in questo continuo rincorrersi di piani diversi, credo che emerga una cifra costante del libro, che mi viene da dire lo sforzo di complicare le cose, non nel senso di renderle difficili o poco comprensibili, ma come sforzo di dare complessità e di dare profondità cronologica alle posizioni degli attori coinvolti in questa vicenda, tenendo conto del rapporto reciproco e anche delle variazioni che le posizioni di ciascuno subiscono in parallelo al modificarsi del contesto storico. Per andare nel concreto, Fantoni è attento a mostrare anche nell'amministrazione britannica alle simpatie sioniste di Churchill fanno da contrappeso le preoccupazioni del War Cabinet, del War Office, del Colonial Office, che sono allarmati all'idea che avallare la creazione di una forza armata ebraica equivalga all'impegno per la costruzione di uno stato nazionale ebraico in Palestina, esattamente l'obiettivo a cui mira l'agenzia ebraica. Però queste preoccupazioni evolvono, sono molto elevate allo scoppio del conflitto, quando le autorità inglesi non vogliono allarmare gli arabi, si è da poco conclusa la grande rivolta del 36-39. Vanno attenuandosi in seguito, quando la Palestina sembra minacciata dalle truppe dell'Asse a più riprese tra il 40 e il 42, e soprattutto le preoccupazioni scemano, spiega Fantoni, quando nel 44 i britannici accantonano la linea che ha ispirato il Libro Bianco per risolversi a una suddivisione della Palestina in due entità. È quindi una chiave di lettura che invita a tenere costantemente in considerazione il trascorrere del tempo e le variazioni di contesto per evitare distorsioni prospettiche. Arrivando alla storia della brigata ebraica, la prima operazione che Fantoni fa è di precisazione, di puntualizzazione perché richiama la necessità di distinguere quell'esperienza da ciò che l'ha preceduta. Spiega che sono circa un milione e mezzo complessivamente gli ebrei che combattono negli eserciti alleati, in prevalenza in Unione Sovietica, e spiega che fin dai primi giorni di guerra gli esponenti dell'agenzia ebraica fanno pressioni sulle autorità mandatarie per costruire una forza armata composta da ebrei di Palestina, da intendersi come difesa locale ma anche con la disponibilità a essere impiegata su altri fronti. Queste sono le premesse della brigata ebraica però occorrono cinque anni prima che veda effettivamente la luce. Un primo passo è nel settembre del 40, quando appunto l'Egitto è sotto minaccia militare dalle forze dell'asse, quando viene autorizzata la costituzione di compagnie palestinesi che vengono inserite nel Royal East Kent Regiment. Sono compagnie con compiti di guardia e di presidio in loco e sono miste di arabi e di ebrei, inizialmente più numerosi i primi dei secondi. Un nuovo passo viene compiuto nel giugno del 42 anche grazie all'azione di un comitato statunitense che preme per la costituzione di una forza armata ebraica e incide la situazione militare in Nord Africa con l'avanzata dell'asse che arriva a minacciare Tobruk e quindi pare a rischio la Palestina stessa. Ed è allora che viene costituito il Palestine Regiment, ancora una formazione mista, 1200 gli arabi, 1600 gli ebrei e ancora una formazione con compiti di presidio. L'agenzia ebraica concorda che la forza rimanga in Palestina. In realtà l'esercito britannico sposta poi due dei tre battaglioni che la compongono in Libia e in Egitto, ufficialmente per la necessità di presidiare la zona, di fatto per mettere un freno alle sottrazioni di armi. E questo è un elemento che spiega come è concepita complessivamente l'operazione da parte dell'agenzia ebraica. Cioè da un lato si tratta di mostrare l'impegno degli ebrei nella lotta a fianco degli alleati contro la Germania nazista e quindi acquistare benemerenze in vista della costituzione di uno stato in Palestina. Ma al contempo lo sguardo è anche sempre rivolto al dopo. Quindi si tratta di attrezzarsi anche militarmente al possibile confronto con la popolazione araba. Ed il resto sono esattamente questi i motivi di allarme dal punto di vista dei britannici. Non a caso la svolta si determina nel 44, come ho detto prima, quando cambia la prospettiva britannica sulla destinazione successiva della Palestina. Ed è in quel momento che prevalgono le posizioni di Churchill che invita, c'è una citazione che Fantoni fa, invita ad ascoltare empaticamente le richieste di un popolo che in Europa sta subendo l'inenarrabile. Però non scompaiono le resistenze di altri settori dell'amministrazione britannica. resistenze che sono decisive nel contenere entro i limiti della brigata la tanto sospirata forza armata ebraica. Viene ufficialmente annunciata la sua costituzione nel settembre del 44 e la sua diversità e specificità rispetto alle formazioni che l'hanno preceduta è data dal fatto che è concepita proprio come un'unità combattente, destinata non più a servizi di presidio o logistici ma proprio ad andare al fronte, composta di tre battaglioni di fanteria e confluiscono le forze del Palestine Regiment, di un reggimento di artiglieria e poi da varie altre compagnie che hanno compiti diversi, che vanno dalla comunicazione al genio, potremmo dire, ai trasporti. I soldati della brigata ebraica si addestrano e combattono in quanto ebrei, lo fanno sotto la bandiera sionista con la stella di Davide, ma non sono tutti ebrei. Sono circa 4.000, si arriva a 5.000 il numero solitamente accreditato, spiega Fantoni, se si considerano anche forze ebraiche non appartenenti alla brigata. Nel 1947 poi il Ministero della Difesa inglese dirà che hanno militato nella brigata ebraica 3.170 ebrei affiancati da 1.000 non ebrei, tra cui una trentina di ufficiali. Fantoni sottolinea che si tratta di un gruppo estremamente eterogeneo, con ebrei che provengono da 54 paesi, tenendo conto anche che gli ebrei di Palestina hanno alle spalle le provenienze le più diverse. Ed è un gruppo che necessita di un lavoro di amalgama non semplice, a partire dalla lingua, con l'inglese che viene utilizzato per l'impegno militare, e l'ebraico che viene identificato come collante identitario ma che non è immediato come tale perché non tutti lo conoscono. Ed è un'amalgama non semplice per differenze di età, di estrazione sociale, di posizione nei confronti della religione e così via. Una volta costituita la brigata trascorre un periodo di addestramento in Egitto e salpa poi alla fine di ottobre del 44 per l'Italia, per Taranto. Da novembre a febbraio si addestra a Fiuggi e la brigata viene mandata poi in prima linea soltanto all'inizio del marzo 45. Prima nel mese di marzo con azioni di pattugliamento è attiva nella zona che sta tra il fiume Lamone e prima del segno. Poi nei primi giorni di aprile prende parte proprio alla battaglia del segno, in seguito alla quale poi cadrà definitivamente la linea gotica e ha il compito di sfondare tra Riolo Terme e Castel Bolognese. Quindi è una formazione che è limitata numericamente, che ha un impiego militare circoscritto nel tempo e nello spazio, per quanto condotto a termine positivamente. Nei suoi movimenti in territorio italiano però la brigata si fa carico anche di un altro compito, che è quello di dare soccorso e sostegno ai profughi ebrei reduci dai campi nazisti che sono calcolati in 5-6 mila in Italia. Ed è un compito che viene svolto sfruttando tutti i possibili margini di autonomia che si producono nel funzionamento dell'esercito britannico, che spiega Fantoni, seppure non ha piena contezza di quello che la brigata sta facendo, non è nemmeno del tutto all'oscuro perché, tanto per capirci, i mezzi di soccorso che vengono usati, mezzi di trasporto così come derrate, appartengono all'esercito inglese. In un primo momento è previsto che la brigata venga impiegata nell'occupazione della Germania sconfitta. A questo proposito nell'Uishuv, nella comunità ebraica di Palestina, ci sono posizioni diverse e credo che sia un punto interessante della ricostruzione, perché da un lato si teme che i soldati siano inutilmente esposti in un territorio ostile, si teme una possibile degenerazione ideale, diciamo, rispetto alla possibilità di esercitare vendette. Si vuole anche il rimpatrio di gente addestrata e armata in vista di ciò che può accadere in Palestina. Comunque, al di là di queste posizioni differenti, la situazione cambia rapidamente a fronte di episodi di vendette effettivamente compiute da avanguardie della brigata che varcano il confine con l'Austria, il grosso della brigata viene fermata nella zona di Tarvisio e poi viene trasferita come forza di presidio in Belgio e Olanda. La sua vicenda si conclude nell'estate del 46, la brigata viene sciolta definitivamente e per la fine di luglio tutti i suoi componenti vengono rimpatriati. Quindi è una storia breve, complessa e anche densa di significati e proprio su questi significati vorrei rivolgere alcune domande a Fantoni. Intanto per chiedergli di spiegargli il rapporto della brigata e degli uomini che la compongono con il sionismo. Io credo che una delle parti più affascinanti di questo lavoro sia quella in cui l'autore segue le storie e le motivazioni di alcuni di questi soldati, perché è una chiave che fa emergere una grande complessità riguardo alle scelte, alle aspettative e anche ai destini successivi nello Stato di Israele. Un altro punto di grande interesse credo che sia il rapporto della brigata con i profughi ai quali presta soccorso ed è qui che sta il nesso con l'indagine, con il giallo a cui accennavo all'inizio. Poi la smetto con le domande, ma un altro tema di grande interesse credo che sia quello della vendetta e a monte il mito del soldato della brigata ebraica come modello di un ebreo nuovo e diverso da quello della diaspora. Chi ha combattuto e ha saputo combattere e morire con le armi in mano. E davvero finisco, mi piacerebbe sentire qualche riferimento sulla scelta delle fonti per costruire questo lavoro e anche sul modo di integrarle, di farle interagire tra loro. Grazie, grazie mille Chiara per una ricostruzione sintetica molto lucida della vicenda della brigata ebraica e anche per queste domande molto puntuali, molto interessanti. Ho visto che Gianluca ha preso nota. Adesso passiamo al secondo relatore che appunto interverrà, Mirko Carrattieri e poi Gianluca avrà modo di rispondere a entrambi i nostri interlocutori. Prego Mirko. Grazie Filippo, buonasera a tutti anche da parte mia. Grazie per l'invito, grazie a Gianluca per questo libro davvero molto stimolante. Parto anch'io da un paio di considerazioni generali che ricalcano quelle di Chiara ma che credo sia utile ribadire sulla scrittura del libro perché facendo una battuta ieri con Chiara dicevo che se tu insegnassi in Italia il libro sarebbe stato il doppio e invece diciamo questa capacità sintetica che riprende un po' anche la prosa della storiografia britannica è molto utile per appunto non perdersi nei meanti di una questione complessa. Così come anche devo dire anch'io ho molto apprezzato il giallo a inizio di ciascun capitolo che segue l'inizio di ciascun capitolo e che insomma siccome Gianluca è soprattutto uno studioso di cinema ho trovato molto cinematografico così come anche alcuni parti del volume come dirò. Anche se rimane un po' il dubbio che adesso chiederemo a Gianluca di sciogliere da dove provenga questa cartellina di carta perché lui in nota dice mi è stata consegnata da privati. Non sappiamo da dove venga questo rapporto finora in evo. Detto questo come diceva Chiara io vorrei parlare della seconda parte del libro che è equamente diviso appunto tra la storia e la memoria della brigata ebraica e vorrei toccarlo i due piani affrontati da Fantoni. Il primo è proprio l'evoluzione della memoria della pubblica della brigata ebraica che viene affrontata in tre contesti differenti quello del nuovo Stato di Israele, quello del mondo anglosassone e quello dell'Italia. Seguendo questi tre contesti appunto dalla fine della guerra, dall'affogliamento della brigata meglio fino a praticamente oggi. E di questi tre contesti Fantoni ci spiega non solo il cosa viene ricordato in questi contesti e cosa no ma anche il come, il quando e il perché. Perché ci sono modalità, periodizzazioni e obiettivi, come già diceva Chiara, decisamente diversi. Non abbiamo il tempo di ripercorrerli nel dettaglio anche perché diciamo si tratta appunto di articolazioni tutt'altro che semplici. Però per ciascuno di questi tre contesti segnalo una questione che mi sembra interessante e su cui sollecito appunto magari Gianluca a riprendere. Per quanto riguarda il contesto israeliano, mi sembra che sia molto interessante il ragionamento fatto sulla svolta, peraltro già nota, già conosciuta nell'ambiente storico-memoriale degli anni Sessanta. Relativamente però alla cosa che citava in conclusione Chiara, cioè al passaggio tra una memoria fondata da parte del mondo israeliano, una memoria della seconda guerra mondiale fondata sul mito dell'ebreo combattente, quindi i resistenti, coloro che si sollevano nel ghetto e appunto la brigata ebraica e invece l'accoglienza all'interno della memoria pubblica delle figure molto più numerose delle vittime. Questo mi sembra un punto molto importante nell'articolazione della memoria in Israele. Per quanto riguarda il contesto anglo-americano, torno anch'io sulla questione della vendetta. Mi pare che questo tema del fatto della tensione, della propensione, dell'idea e poi delle applicazioni della eventuale vendetta contro i carnefici abbia attirato molto l'attenzione del mondo anglo-americano, a quanto possiamo leggere nel libro di Fantoni, deformando anche in qualche modo la portata effettiva di questo fenomeno rispetto al quadro complessivo. Infine, per quanto riguarda l'Italia, mi sembra che anche qui un nodo fondamentale sia rappresentato dalla guerra dei sei giorni che, appunto, Fantoni ci dice, segna in qualche modo una rottura all'interno della comunità ebraica italiana, dell'opinione pubblica conseguentemente italiana, che è segnata fondamentalmente dalla difficoltà di continuare a tenere insieme antifascismo e sionismo come sembrava possibile fare prima. Ecco, questi sono i tre nodi, ovviamente ce ne sarebbero molti altri, ma insomma, ciascuno dei contesti che Gianluca ha ricostruito. Vengo al secondo piano, che è più generale e che è anche, diciamo, quello su cui forse sono più competente, perché ovviamente, ripeto, adesso noi lo diamo per scontato, ma insomma, né io né Chiara, siamo esperti, ovviamente, del contesto medio orientale di storia ebraica, però c'è un dialogo costante, come già diceva Chiara, con la storiografia, non solo internazionale, ma anche italiana, e vorrei ricordare soprattutto, insomma, un gruppo di giovani storici della nostra stessa generazione, che sono più volte citati, Wally Schwartz, Arturo Marzano, Matteo Di Figlia, che sicuramente hanno dato, stanno dando un contributo importante su questi temi. Dicevo però che personalmente, ovviamente, sono molto interessato ai temi della memoria pubblica e alla costruzione della memoria pubblica. Allora, fin dall'inizio, dall'introduzione, Fantoni ci dice che questo libro è stato scritto non solo per, come diceva già Chiara, fornire argomenti di orientamento rispetto ad una questione senz'altro complessa, ma anche per, come dire, rispondere ad un dibattito pubblico molto acceso in varie fasi, compresa quella contemporanea. E c'è fin dall'inizio un'attenzione anche teorica per quello che il dibattito italiano si chiama uso pubblico della storia dopo il lavoro di Gallerano e su cui Fantoni interviene con un proprio schemino di orientamento, diciamo così, che sostanzialmente intanto distingue, come già faceva Gallerano, tra uso pubblico, appunto l'espressione ripresa da Habermas, che riguarda un po' tutto il contesto del dibattito pubblico sulla memoria, e uso politico, seguendo una definizione, diciamo, più francese, cioè un uso strumentale di questo stesso passato. E poi ci dice sostanzialmente che per capire quando ci troviamo di fronte a un fenomeno di uso politico, quindi questa seconda categoria della storia, sostanzialmente dobbiamo guardare a chi sta scrivendo la storia, a come la fa, quindi decontestualizzando, iperbolizzando, e con quale obiettivo sta facendo questa operazione. In particolare, ci dice Fantoni, con l'obiettivo di collegare direttamente il passato al presente. Ovviamente, come ci dice lo stesso autore, sono criteri di riferimento generali che non dobbiamo prendere, diciamo, come una tassonomia fissa, ma che ci danno delle indicazioni molto precise rispetto al fenomeno di cui lui poi ci parla, e che ovviamente aprirebbero un dibattito molto a largo. Per quanto riguarda il contesto del libro, a me sembra importante notare come, appunto, essendo Gianluca un storico grande esperto di cinema, ci sia una grande attenzione a quali sono gli strumenti con cui si forma la memoria pubblica, come ho detto, diversi per stagioni e contesti, ma comunque in questo libro si parla ovviamente delle opere letterarie, si parla chiaramente di memorie, ma si parla molto anche di film, intesi in vario senso, ovviamente analizzati con grandi acume da Fantoni, si parla di graphic novel, addirittura, si parla di siti internet, e devo dire anche, visto che il tema mi è particolarmente caro, si parla molto di luoghi di memoria, si parla delle mostre che hanno fatto conoscere il tema della brigata ebraica anche recentemente in Italia, quindi nel ventunesimo secolo, e si parla di luoghi di memoria, si è già citato il segno, la battaglia sul segno sulla linea gotica orientale, è raccontata in uno dei musei più vecchi in realtà, di storia della resistenza in Italia, molto interessante, legato tra l'altro all'Istituto Storico di Alfonsine, si parla dei cimiteri, in particolare dei cimiteri del Commonwealth e della densità di cimiteri in Romagna, compreso appunto quello nella zona di Mezzano-Piangipane, dove stanno molti ebrei, si parla anche per esempio del campo di Ferramonti, perché è interessante vedere che in questa vicenda, come già si diceva, molto articolata, molto ricca, sono tantissime le questioni, diciamo gli spin-off di grande interesse, ne butto lì solamente tre, che sono usciti dal libro molto interessanti per me, uno, la presenza nella brigata ebraica, di Hans Jonas, che mi sembra una cosa molto interessante, considerato anche le sue riflessioni successive, un altro è proprio questa attenzione al tema degli ebrei libici, che mi sembra anche di grande attualità rispetto al nostro lavoro, questi ebrei libici che, diciamo a seconda dell'avanzamento, arretramento così ondivago del fronte africano, si ritrovano poi a combattere, ad essere e a diventare prigionieri di guerra. E terzo, un altro tema secondo me affrontato con grande intelligenza e curiosità, è quello dei simboli, la storia delle due bandiere, della bandiera dello Stato di Israele e della bandiera dell'autorità palestinese, del loro uso delle manifestazioni pubbliche, è un altro tema accennato molto interessante. Ecco, a proposito della questione dei luoghi, e concludo, vorrei sollecitare Gianluca su due questioni che emergono relativamente alla memoria pubblica. Uno è l'utilizzo, secondo me, molto appropriato di una categoria elaborata negli ultimi anni dal dibattito anglosassone, non ancora arrivata, diciamo, granché in Italia, che è quella di agonistic memory, che penso possa essere di grande interesse anche per Filippo. Cioè l'idea che, a fronte di impostazioni cosmopolitiche, cioè dell'idea, diciamo, per intenderci della memoria che deve essere condivisa, o per contro di memorie decisamente antagoniste, cioè che vedono nella memoria altrui un avversario, quando non un nemico, l'impostazione della memoria agonistica prevede il concetto di confronto e anche conflitto tra memorie come modo per affrontare insieme le sue complessità. Il secondo riferimento, più prosaico, è però alla conclusione del tuo libro, ci tocca in quanto storici, perché, come già diceva Chiara, tu poni chiaramente allo storico l'obiettivo di complicare le cose, come diceva lei, in senso buono, cioè di far capire la complessità delle cose e superare gli schematismi e le semplificazioni e le loro strumentalizzazioni. E ci dici che, insomma, ci manifesti una certa fiducia che gli storici, appunto, possano scomporre, mediare, rimediare in situazioni particolari, anche così complesse come questa memoria di cui tu ci parli. E siccome siamo, purtroppo, in un contesto oggi di venti di guerra, credo che il ruolo degli storici in questi contesti debba essere riaffermato. Grazie. Grazie mille, Mirko, per queste riflessioni acute, questi problemi che hai sollevato. Gianluca, ti sei appuntato tutto, sei pronto? C'è tre fogli diversi. Allora, prenditi il tempo, abbiamo tranquillamente una ventina di minuti e anche più, per cui ti lascio la parola. Grazie, grazie Filippo per la presentazione e grazie Chiara e Mirko per aver letto il libro così attentamente. Ne sono onorato, davvero, per averlo capito così bene. Forse perché, come dite, era anche scritto in modo semplice, ma secondo me voi ci avete fatto anche una riflessione notevole sopra. Sì, cercherò di rispondere a un po' di cose, non potremmo rispondere, non diremo tutto, anche perché non vogliamo dire tutto, altrimenti poi la gente non compra il libro, voglio dire, invece noi siamo qui per... Anzi, se posso mostrarlo, questa è la copertura, è una bella copertina dell'Ainaudine, sono particolarmente soddisfatto. Allora, andando un po' in ordine, sì, sullo stile di scrittura del libro, avete detto tutto voi, in realtà, e questa Chiara mi attribuisce una sorta di dote naturale, in realtà ci ho lavorato molto sopra, la semplicità è una cosa che richiede molto lavoro e certamente è la tradizione anglosassone, ce l'avevo studiato e ho passato molti anni a scrivere in Gran Bretagna, la prima volta che scrivevo, il nostro comune amico Phil Cook diceva che non si capiva quello che scrivevo perché le frasi erano troppo lunghe e non troppo complesse, bisogna semplificare e devo dire lo stile di scrittura storica inglese in effetti si presta di più per la divulgazione e quello che come storici, lo ricordava adesso Mirko, adesso è una specie di dovere che abbiamo, specialmente in questo ultimo, in questi periodi travagliati in cui la storia viene molto tirata per la giacchetta da commentatori politici, quindi abbiamo il dovere della divulgazione e perché la divulgazione sia efficace abbiamo il dovere di cercare un linguaggio che sia chiaro e accessibile. Tra l'altro questo era anche l'accordo che avevo preso con Enaudi, con Andrea Bosco che mi piace citare, il direttore di Enaudi Storia, ci eravamo proprio messi d'accordo per scrivere un libro che arrivasse al grande pubblico, cioè non solo per esperti. Per questo c'è anche una molta insistenza sulla metodologia, Mirko lo ricordava, mi fa molto piacere perché su quello ci ho messo molto lavoro. Questo libro in realtà contiene molte idee di metodologia, però diciamo è una metodologia per il grande pubblico, cioè una metodologia spiegata a tutti e quindi si fanno anche riflessioni proprio abbastanza che per certi storici sono un po', per gli storici professionalisti sono un po' l'ABC, il rapporto fra storia e memoria, però lì vengono ripetuti, quindi il rapporto storia e memoria, l'uso pubblico della storia, quando è che la complessità della storia, che la storia è un affare piuttosto complesso, il che è fatto per andare contro quella che è la semplificazione, la trivializzazione, la banalizzazione che viene fatta della storia quando essa viene usata in un contesto politico, nell'arena politica o nel dibattito che per lo più è fatto da non storici, cioè storici non professionisti. Ecco, una delle, tu mi ricordavi, mi fa piacere, i quattro punti, questo breve decalogo che ho messo insieme per riconoscere quando ci si trova davanti all'uso pubblico della storia, uno dei segni è che la storia, quella storia, la storia politica è fatta da non storici, normalmente, chiaro, non è sempre il caso, ciò non vuol dire che non ci siano storici non professionisti che fanno dell'ottima storia, assolutamente, però quando la storia è politicizzata, è usata per fini politici, spesso i protagonisti di questa operazione non sono storici professionisti, poi appunto come ricordavi, il fatto è che si isolano certi fatti e si mettono in rilevanza quelli mentre si ignorano completamente altri fatti altrettanto importanti e poi questo collegamento fra il passato e il presente come se il passare del tempo non avesse nessuna influenza, in realtà il passare del tempo è tutto in storia ed è tutto anche nelle biografie umane quindi noi cambiamo nel tempo e quindi un fatto che è successo molti anni fa non può difficilmente ha una rilevanza diretta sul presente questo vale anche per i tempi molto brevi Chiara ricordava giustamente come dalla proposta che l'agenzia ebraica fa alle autorità mandatari e al governo britannico di formare la brigata ebraica alla effettiva formazione della brigata ebraica passano cinque anni e in quelli cinque anni di cose ne succedono specialmente perché siamo sui cinque anni di guerra quindi non si può non tenerne conto molto spesso ecco nelle ricostruzioni che si fa della storia della brigata ebraica si salta direttamente dal 39 al 44 come se in quei cinque anni non contassero non avessero contato per l'agenzia ebraica per gli shuv per il governo britannico ma anche per i singoli individui che poi andranno a comporre la brigata ebraica perché di questo sono fatti gli eserciti di esseri umani e in cinque anni di cose ne succedono c'è chi si ammala c'è chi si sposa c'è chi fa un figlio c'è chi diventa sionista chi smette di essere sionista cioè le biografie di cinquemila uomini quattromila forse più mille gentili o tremila palestinesi un po' di inglesi e poi mille non ebrei che questa era la brigata ebraica e insomma sono sono vicende complesse per questo racconto molte storie Chiara ricordava giustamente ci sono brevi biografie di soldati non hanno il parere non c'è la presenza di essere esaustivi chiaramente alla fine racconto una storia forse di 20-25 soldati su cinquemila che erano però proprio per dare il senso che le biografie sono diverse le motivazioni personali sono diverse e che quindi bisogna sempre tener conto della complessità anche dell'agire di quelli che sono gli attori cioè gli esseri umani nella 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 in una vicenda storica quindi mi piace ricordare Mark Bloch che diceva beh gli storici sono come gli orchi della fiaba andiamo lì dove c'è l'odore di carne umana lì cerchiamo di capire va bene quindi senza diciamo banalizzare oh ritornando un po' all'inizio alle domande allora sì la storia di Barclay allora all'inizio nella prima versione del libro il come ero entrato in possesso di questo documento era molto più dettagliato poi i protagonisti stessi mi hanno chiesto di glissare non erano interessati a fare pubblicità alla loro famiglia in realtà è la famiglia di Barclay stesso il nipote Jack Barclay è un mio amico personale una volta ci invitò qualche anno fa me e mia moglie in una weekend nel Somerset alla casa di suo padre che è il figlio di Jack Barclay un uomo che ha avuto un'importante carriera quindi c'è una bella casa nella campagna inglese e mentre stavamo lì che sosseggiavamo whisky scozzese nella veranda cominciò a raccontarmi di suo padre che era stato nel military police in Gran Bretagna mi disse sai che io c'ho anche dei rapporti originali e mi disse uno di questi non li ho letto ma uno di questi rapporti parla di soldati ebrei che erano stati arrestati per traffico di persone rifugiati io avevo già cominciato la ricerca sull'obbligata ebraica immaginatevi gli dissi ma non è che potrei vederlo e lui disse guarda prendilo me l'ho dette proprio però un giorno ci devi scrivere qualcosa e adesso posso dire di aver mantenuto quella promessa perché quella cosa ce l'ho scritta tra l'altro io ho anche altri rapporti del tenente Barclay quindi su altre vicende altrettanto interessanti quindi chi lo sa forse ci scriverò ancora e ce l'ho voluto inserire prima di tutto perché certo ci restituisce anche la complessità cioè la storia della fede l'indagine del capitano Barclay ha a che fare con la storia delle navi fede e fenice è una storia abbastanza nota ci hanno fatto anche uno sceneggiato la Rai un po' di anni fa però non era mai stata raccontata dal punto di vista della polizia militare britannica e questo è un punto di vista molto dettagliato perché ci sono proprio cioè gli appunti le trascrizioni degli interrogatori il fascicolo è molto molto voluminoso l'ho inserita per questo perché pensavo che fossero comunque informazioni interessanti anche per catturare l'attenzione del lettore e questo e di nuovo avviene dalla tradizione britannica lo fanno specialmente più che britannica americana lo fanno specialmente nell'accademia americana cioè ti chiedono gli editori di cominciare ogni capitolo con una piccola storia che catturi l'attenzione del pubblico mi ricordo di essere stata a una conferenza dell'American Historical Association a Denver e c'era proprio un panel dedicato a questo come si fa a vendere più copie e una delle istruzioni era questa sono molto pragmatici nel mondo anglosassone quando si parla di pubblicazioni storiche ecco allora anche per questo ci ho inserito questa storia perché era interessante perché avrebbe credo attirato il pubblico passando un po' più alle domande quelle allora brigata e sionismo sì questo è un aspetto molto interessante chiaramente nella pubblicistica specialmente quella neo sionista degli anni 90 la brigata ebraica è presentata come una armata sionista e questa è anche la posizione che alcune diciamo associazioni di amici di Israele italiane hanno preso in occasione della polemica del 25 aprile ci sono libri che ne parlano questo è il libro di Beckman che si chiama The Jewish Brigade An Army with Two Masters cioè un'armata con due padroni uno era l'esercito inglese e l'altro l'agenzia ebraica proprio a dire che prendevano ordini in realtà dall'agenzia ebraica e quindi dalla principale organizzazione sionistica di Palestina però se andiamo a vedere appunto la composizione della brigata ebraica e le motivazioni personali come si diceva prima è difficile affermare che la brigata ebraica fosse un'armata sionista e perché appunto mille non erano neanche ebrei molti venivano molti altri venivano dall'Inghilterra in realtà e non erano sionisti perché il sionismo inglese era contrario cioè scusate l'ebraismo inglese era contrario al sionismo in certi aspetti anche ferocemente avverso perché in realtà la maggioranza delle organizzazioni ebraiche e inglesi perseguivano l'integrazione e ci fu anche addirittura quando fu annunciata la formazione della brigata ebraica ci furono proteste in Gran Bretagna da parte delle associazioni ebraiche che dicevano ecco così adesso diamo ragione agli antisemiti che dicono che noi siamo un corpo estraneo della nazione che non facciamo parte noi vogliamo che i nostri ragazzi combattano nelle file dell'esercito regolare nelle file dell'esercito di sua maestà così e come tutti gli altri perché noi siamo inglesi e non prima inglesi e poi ebrei questa era la posizione di molti non di tutti naturalmente anche lì complessità differenziazione quindi in realtà ecco per darvi un numero Yehuda Bauer che è uno degli storici che ha usato di più grande storico israeliano classe 1926 ancora vivo e che racconta che dice quando la brigata ebraica alla fine in Olanda gli uomini che fanno che sono proprio agenti dell'agenzia ebraica sono circa 150 quindi di quei 150 siamo sicuri che erano sionisti duri e puri possiamo ipotizzare che ce n'erano molti altri che avevano una certa simpatia per il sionismo un certo grado di simpatia per il sionismo più chi più chi meno chi in forma diversa come è normale che sia come è per i comunisti o per i liberali cioè per tutte le fedi non è che tutti siamo uguali quando sposiamo un partito o una fede o una fede politica ci sono modi diversi ecco quei 150 sicuramente erano sionisti degli altri bisognerebbe investigare le biografie per essere per essere dei scelti brigate e profughi va bene sì questa è una cosa interessante feceva un'opera meritoria non solo aiutando i profughi che arrivavano dai campi di concentramento e che quindi erano diciamo i sopravvissuti e organizzando il trasferimento in in Palestina ma anche aiutando molto le comunità ebraiche italiane questa è una cosa che non è stata citata però l'aiuto che hanno dato che la brigata ebraica ha dato anche aiuto materiale in termini di soldi di appoggio per ricostruire le comunità ebraiche italiane che hanno state così seriamente disperse danneggiate durante la guerra è stato importante infatti molti nelle comunità ebraiche italiane si ricordano i soldati della brigata ebraica e ci hanno scritto anche delle memorie quelli che erano bambini allora ci sono adesso libri di memoria che parlano dell'incontro con i soldati della brigata sono anche testimonianze a volte molto molto toccanti molto intime e personali e questi profughi i soldati della brigata ebraica se li litigavano perché l'isciufa anche era anche i sionisti erano divisi in partiti c'era quelli di destra quelli di sinistra c'era l'irgun che era fieramente opposto avverso alla ganà e ci sono episodi appunto raccontati questi sono stati già raccontati anche da Sereni quindi insomma era ben noto che si andava dal profugo e gli diceva se ti iscrivi al mio partito ti prometto un posto sulla prossima nave se invece vai da quelli dell'altro partito non partirai mai e quindi c'era questo quindi anche diciamo momenti in cui si smitizzano anche certe 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 questioni e non si deve pensare che questo sia un mettere in cattiva luce perché in realtà così funziona cioè così funziona la democrazia così funzionano i partiti si litiga si discute ed è normale che sia così nessuna organizzazione è monolitica nemmeno il sionismo di Palestina no sulle fonti va bene la la ricerca è basata l'inizio della ricerca è stata una settimana di ricerca al The National Archives in London a Londra cioè hanno l'archivio di stato è molto bello raccoglie tutti i documenti dell'esercito e del governo britannico molto efficiente devo dire ha moltissimo personale si può fare quello che si vuole si possono fotografare i documenti quindi ho preso quasi mille foto di documenti che mi sono portato via anche lì credo materiale per altre pubblicazioni e quindi feci quella ricerca lì basato su quello ho pubblicato un primo articolo nel Journal of Modern History quindi esiste una versione una pubblicazione in inglese sulla brigata ebraica di 14.000 parole piuttosto lungo per un articolo certo meno lungo del libro poi la letteratura ecco diciamo il lavoro archivistico è stato fatto lì ci sarebbe c'è altro materiale d'archivio quello conservato in Israele non l'ho visto direttamente ma l'ho letto in traduzione perché per fortuna è stato studiato da molti storici israeliani tra cui appunto Judah Bauer e altri che ne hanno scritto ampliamente e tutti questi i loro scritti sono stati poi tradotti in inglese perché c'è molto mercato per quanto riguarda la storia dell'ebraismo e del sionismo specialmente negli Stati Uniti quindi ci sono le versioni in inglese di questi libri che è facile trovare un'altra cosa un'altra fonte importante sono state memorialistiche coeve sono andato a ricercare nei negozi di libri dell'USAFO e su internet vecchi libri come questo qui questo è stato scritto nel 44 Soldiers from Julia questo è il diario di Casper che era il rabbino capo della brigata ebraica questo del 47 qui in Gran Bretagna per fortuna c'è una grande tradizione di libri usati tanti negozi dove si trovano queste chicche e quindi ne ho trovati diversi e ne ho anche utilizzati infine ho fatto anche un tour io il Senio Alfonsim i musei mi li sono visti tutti mi sono visto le colline che la brigata ebraica ha conquistato nel 2020 durante fece un giro nell'Egromagna d'agosto una cosa un caldo micidiale però è stato bellissimo lo stesso e mi sono fatto tutti i luoghi della brigata ebraica per avere come dire perché la geografia è importante in storia come noi ben sappiamo è spesso trascurato ma la geografia gioca un ruolo fondamentale nella storia quindi era importante anche vedere la geografia e poi certo a metodologia come l'agonistica memory ho cercato anche di vedere che cosa si muoveva diciamo recentemente negli studi di storia e memoria questa dell'agonistic memory è una delle ultime frontiere la trovo piuttosto interessante il grande protagonista di questo è Anna Centobull che ha scritto su questo e ha teorizzato appunto questo nuovo modo di presentare dei contenuti in una mostra quando abbiamo una divisione memorie contrapposte memorie irriconciliabili quello che loro hanno fatto è stato specialmente in Nord Irlanda sapete in Nord Irlanda c'è un'altra di quelle vicende never ending che non finiscono mai di questi odi perpetui e gli stracci lasciati dalla guerra lì in Nord Irlanda sono ancora dolorosissimi una guerra civile di fatto e noi sappiamo quanto le guerre civili lasciano stracci assai lunghi e difficilmente riconciliabili ecco allora loro dicono invece di cercare questa mitica memoria condivisa che non si riesce a trovare beh mostriamoli tutte e due all'interno dello stesso spazio espositivo mostriamo entrambe le memorie e spieghiamo proprio perché qualcuno dissente con la memoria dell'altro e in questo modo restituiamo la complessità della storia e forse questo è anche il primo passo verso la mitica memoria condivisa perché poi dopo una volta che si è riconosciuto che ci sono altre memorie al di là di quelle a cui ciascuno piace fare riferimento c'è una memoria altra allora si comincia è il primo passo per accettare l'altro e poi per per discutere ancora meglio di di memoria la di Barclay l'ho detto è sul 25 aprile non lo so però a quanto tempo Filippo forse mi interrompo che dici e poi sai ancora a 5 minuti ce le abbiamo allora ecco sulle fonti ho detto allora quindi il antifascismo e sionismo allora si quello è l'ultimo l'ultimo capitolo è quasi interamente dedicato alla questione 25 aprile che è anche la questione da cui lo studio ha preso le mosse cioè il mio primo interesse è stato vedevo questo scontro che io trovavo sconcertante sconcertante specialmente perché creavo una frattura all'interno del fronte antifascista italiano ecco ecco dichiaro una cosa siccome ho detto parlo molto in questo libro di motivazioni politiche nessuno di noi è esente da motivazioni politiche quando fa storia io voglio dichiarare la mia io una delle motivazioni con cui è stato scritto questo libro è che io vorrei che il fronte antifascista italiano stesse unito e forte perché sono antifascista quindi faccio questa mia dichiarazione quindi c'è uno scopo anche nel mio libro ecco non è che sia l'unico storico che non ha motivazioni politiche ecco ero ero piuttosto sconcertato dal fatto che il fronte antifascista si stesse dividendo fra ebrei e sinistra radicale lo trovavo un regalo alla destra assolutamente non dovuto e e mi dispiaceva e allora ho cominciato a interessarmi e come tutti all'inizio ho cominciato a guardare gli articoli dei giornali ne ero completamente insoddisfatto perché non spiegavano niente e allora da lì ho cominciato a cercare meglio e di più di più e scava scava questa è una una ricerca che è cominciata diversi anni fa la prima volta il primo paper che ho presentato ero tra l'altro con Mirko Carrattieri a Ravenna quella che anno era il 2017 quindi insomma era cinque anni fa ormai quindi è una ricerca che è andata avanti per molti anni ecco quindi lì la questione è che sì dopo il 25 dopo la guerra dei sei giorni diventa difficile per molti ebrei specialmente anche proprio per gli ebrei di sinistra rimanere fedeli tanto alla causa antifascista e allo stesso tempo al zionismo perché il zionismo adesso è visto come una forma di fascismo e questo lo dobbiamo dire è una esagerazione è una forzatura però d'altro canto ecco forzature storiche e letture politiche della storia vengono fatte da tutte le parti anche da parte della sinistra c'è il PC lì che prende una posizione fortemente filoaraba perché? perché Israele è schierata con gli Stati Uniti e quindi ipso facto è una potenza imperialista quasi per definizione la sinistra radicale dei movimenti dei gruppi degli studenti naturalmente parteggia per i palestinesi e quindi diciamo il zionismo diventa sinonimo di fascismo e questo crea un dissidio ora poi la situazione il racconto è molto più complesso di così e io nel mio capitolo sono abbastanza dettagliato però a grandi linee è questo crea un dissidio perché si può essere allora antifascisti e sionisti allo stesso tempo ecco la riscoperta della brigata ebraica in tempi recenti e la politicizzazione della brigata ebraica è un tentativo in questa direzione cioè di riappropriarsi dell'antifascismo però facendolo da convinti sionisti ed è portata avanti da certi gruppi non da tutto l'ebraismo italiano ma da una parte dell'ebraismo italiano in realtà anche abbastanza la diaspora ebraica italiana non è molto grande in termini di comunità quindi in realtà i soggetti quasi si potrebbero nominare uno ad uno quasi come mi faceva presente Guy Schwarz con cui abbiamo discusso abbastanza di queste cose guarda che sono io li conosco tutti quelli che che stanno dalla parte della brigata ebraica e quelli che no insomma più o meno sono non tutti naturalmente hanno iperbole ma per dire insomma quindi c'è questa una parte dell'ebraismo italiano riscopre la brigata ebraica in funzione antipalestinese per riaffermare la validità del sionismo c'è un tentativo di affermare una lettura positiva del sionismo presso l'opinione pubblica italiana una lettura che io lo dico è assolutamente legittima dal mio punto di vista cioè il sostenere il sionismo e il sostenere l'Israele è assolutamente legittimo mi dispiace o non accetto quando per fare questo si si tira la storia per la giacchetta si deforma la storia ecco è lì che lo storico deve intervenire per rimettere le cose in chiaro ma anche per favorire poi il dialogo e qui concludo l'uso politico della storia d'altro canto viene fatto anche dall'altra parte cioè anche la sinistra appunto ne abbiamo parlato prima e fin dagli anni sessanta ha diciamo interpretato la storia del conflitto israelo-palestinese in maniera probabilmente troppo demagogica o troppo politicizzata o come io dico come una metafora cioè il conflitto israelo-palestinese è continuamente una metafora di qualcos'altro quindi non viene mai analizzato nella sua specificità quindi insomma anche qui le colpe sono un po' da distribuire su entrambi i fronti per quanto riguarda la polemica 25 aprile guardate io mi fermerei davvero qui così almeno vi do anche la possibilità di dire qualcos'altro se volete grazie 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 Gianluca per aver risposto così diciamo con passione civile mi piace molto la condivido alle domande alle questioni che erano state sollevate sono tante appunto importanti ma mi sembra insomma che tu abbia risposto molto bene e naturalmente sono temi che restano aperti su cui è bello anche confrontarsi continuare a riflettere e questa sede in altre sedi insomma più avanti e il libro a questo punto di vista fa veramente un grande servizio alla comunità degli storici e ai lettori spero siano numerosi come anche tutti auguri Gianluca e speriamo anche al dibattito pubblico e anche alla politica che purtroppo appunto tende piuttosto a strumentalizzare ma insomma forse dobbiamo avere alla fin fine un pochino di fiducia anche qualche politico che abbia la capacità di ascoltare noi poveri storici e non lo so se ci sono osservazioni di Chiara o di Mirko o diciamo ancora qualche minuto altrimenti possiamo intanto fermarci fermarci un attimo qua io posso dire un paio di cose Filippo prego Mirko ma certamente ma intanto volevo dire che appunto ci sono molte altre cose del libro di cui non abbiamo parlato quindi le lanciamo sempre per i nostri lettori per esempio la storia di questo 51esimo Middle East Commando che viene raccontata per dire anche quello che non è stato raccontato proprio perché non aveva dietro diciamo degli obiettivi politici così precisi volevo però fare due osservazioni che mi sembrano utili per integrare la nostra discussione il primo è un ricordo della famiglia Sereni tu prima hai citato l'Italio la figura di Ada che è molto nominata ma si parla anche di Emilio e di Enzo ovviamente e credo che sia una famiglia molto importante per la storia italiana non solo ebraica e che proprio gli studi degli ultimi dieci anni hanno riportato molto all'attenzione del nostro dibattito mi sembrava giusto ricordare anche appunto la figura di Ada dopo tanta attenzione per Emilio ed Enzo ecco e la seconda cosa era che proprio discutendo di quali dimensioni della presenza ebraica nella guerra come tu come tu fai dobbiamo ricordare anche il fatto che negli ultimi anni sono uscite stanno uscendo alcune ricerche molto importanti sulla resistenza ebraica cioè sulla componente ebraica della resistenza in Italia e in Europa e quindi vorrei citare appunto almeno il libro dell'amico Daniele Susini sulla resistenza europea che abbiamo presentato resistenza ebraica in Europa che abbiamo presentato l'anno scorso nel nostro ciclo è uscito per Donzelli e anche la ricerca in corso con cui pure il padre collabora di Liliana Picciotto Fargione e il Shtec sulla resistenza ebraica in alcune regioni d'Italia ecco mi sembrava importante perché credo che si situi per certi aspetti all'interno dello stesso contesto storiografico abbiamo visto la registrazione del nostro colloquio intanto saluto Gianluca Fantoni l'autore che ci ha raggiunti come avrete visto è stato un confronto molto interessante non so se ci sono domande come sapete potete porre domande poi la regia c'è le gira nel frattempo però se mi permettete c'erano un paio di questioni fra le tantissime che sono state sollevate che forse meritano ancora un approfondimento e una discussione in particolare mi aveva colpito una questione mi sembra posta sia da Chiara sia da Mirko questione un po' delicata che è quella della vendetta del Nakam fra l'altro è un tema che proprio in riferimento al comportamento della brigata ebraica è stato sollevato affrontato anche sui mezzi di comunicazione fa riferimento l'autore ad esempio a un programma di vendicatori ebrei che è andato in onda sulla Rai nel 2004 nel nel servizio La storia siamo noi la trasmissione La storia siamo noi di Giovanni Minole quindi anche molto seguita insomma e poi mi ha colpito anche il riferimento che viene fatta a una sorta di editing war riferimento alla voce di Wikipedia proprio sulla brigata ebraica proprio sul tema della vendetta qualcuno aveva introdotto quell'argomento e però aveva suscitato diciamo un contenzioso ecco quindi so se Gianluca ci vuole dare qualche informazione molto molto volentieri sono contento di essere di nuovo qui come vedete lo scenario è cambiato sono nel mio disastrato ufficio di Nottingham appena finito la lezione allora sì la NACAM la vendetta sì è una delle questioni delle vicende più affascinanti anche entertaining cioè di di intrattenimento che ci sono nel libro perché il libro c'è anche delle avventure narrate e questa della vendetta è interessante in realtà la vendetta il senso della vendetta percorre un po' tutto il libro perché perché la vendetta c'è sempre cioè l'idea della vendetta c'è sempre quando si forma la brigata ebraica Churchill scrive in un memorandum dice facciamo questa brigata ebraica perché piacerà molto agli americani perché gli americani sono affascinati dall'idea della vendetta cioè quindi secondo Churchill gli americani erano in fissa con l'idea della vendetta e quindi l'idea che gli ebrei che sono stati distrutti in Europa tornino in Europa a vendicarsi dai nazisti è qualcosa che la pubblicistica americana che la stampa americana troverà affascinante e questo ci farà guadagnare punti presso l'opinione pubblica americana quindi per dire e certo chiaramente si parlava prima delle motivazioni per cui i ragazzi della brigata si arruolano ragazzi o uomini molti erano uomini maturi si arruolano nella brigata abbiamo detto alcuni sono sionisti altri semplicemente erano già arruolati nel Palestine Regiment e quindi ci vengono spediti d'ufficio certamente la vendetta è anche uno dei motivi per cui molti decidono di arruolarsi vogliono andare a rendere la famiglia ai nazisti soprattutto data la caratterizzazione anti-ebraica veramente che Israel aveva dato alla seconda guerra mondiale e questa era anche aumentata man mano che si procedeva nella guerra si arriva in Italia si combatte ma non diciamo dalle testimonianze io nel libro analizzo anche alcuni romanzi che sono stati dedicati alla brigata ebraica e questa vendetta non si riesce a prenderla sul campo non come si vorrebbe non perché non ci sarebbe le capacità o appunto la voglia ma perché la brigata ebraica ha poche occasioni di battersi tutti quelli che hanno diciamo giudicato sia ufficiali dell'esercito britannico sia osservatori le azioni della brigata dicono che la brigata si è abbattuta bene però semplicemente non ebbe molte occasioni di farlo cioè ha una limitata ha una limitata attività militare perde sui 50 uomini in tutto arriva il 25 aprile arriva insomma il 25 aprile alla fine della guerra in Italia poi i primi di maggio la guerra finisce e la brigata ebraica non ha preso la vendetta contro i tedeschi che avrebbe voluto certamente non nella misura sperata allora da lì questo diventa per molti un senso di frustrazione che viene acuito quando la brigata mentre si trova nel nord Italia appunto a Tarvisio riceve la visita di Abba Abba Cosmer questo questo personaggio sui generis che era un poeta e partigiano ebreo che aveva combattuto nel ghetto di Vimmius quando il ghetto era stato distrutto era scappato si era unito da partigiani russi aveva continuato la guerra Abba Cosmer e il suo gruppo vogliono portare vogliono fare vendetta contro il popolo tedesco nella loro formulazione vorrebbero addirittura uccidere 6 milioni di tedeschi avvelenando l'acqua di Norimberga e facendo altre azioni di questo di questo genere quindi si recano al Tarvisio per incontrare i soldati della brigata e gli espongono il loro programma però chiaramente la maggior parte dei soldati della brigata ne rimangono chiaramente perplessi diciamo da questa idea poi appunto molti non hanno affatto intenzione di macchiarsi di quello che sarebbe certamente un delitto altri sono lì per cercare i loro parenti e quindi non mi interessa la vendetta mi interessa andare a cercare i miei parenti in Polonia in Ungheria e in altri paesi gli agenti della brigata dell'agenzia ebraica cioè quelli che sono proprio in maniera dell'agenzia ebraica prendono ordine dell'agenzia ebraica l'agenzia ebraica dice assolutamente no questa è un'idea è un'idea assolutamente da scartare e quindi il rapporto con Abba Kovner finisce lì Abba Kovner poi cercherà di perseguire la sua vendetta da solo con il suo gruppo fallisce questa è un'altra storia che nel libro viene spiegata poi ci sono anche altre pubblicazioni però che cosa succede alcuni soldati forse un po' di vendetta la fanno questa storia è emersa soltanto negli anni ottanta quella storia dei vendicatori appunto che alcuni soldati della brigata un ristretto gruppo solo di qualora proveniente dalla Palestina diciamo un gruppo di duri e puri organizzano delle squadre per andare a caccia di nazisti e lo fanno attraversando il confine vanno in Austria poi in Germania si spingono anche a 300 km oltre il Tarvisio usando mezzi militari inglesi usando le loro uniformi inglesi per passare i posti di blocco e la loro vasta conoscenza del tedesco quasi molti parlavano tedesco fluentemente alcuni erano proprio tedeschi per dare la caccia a questi criminali nazisti su quanto sia effettiva questa nakam questa vendetta in realtà le testimonianze sono contraddittorie e bisogna dire che questa vicenda può essere ricostruita solo esclusivamente attraverso testimonianze orali perché non c'è nessun documento essendo queste azioni segrete ora noi storici sappiamo quanto inaffidabile sia la memoria quando si cerca di ricostruire fatti storici specifici per cui se si mettono a confronto queste testimonianze ci sono delle grosse contraddizioni intanto su l'entità dei vendicatori c'è chi dice poche decine c'è chi dice molti di più sull'entità delle vittime sedesche c'è chi dice ma forse ne avremmo uccisi un centinaio c'è chi dice 1500 sulle modalità su chi sapeva e non sapeva dell'agenzia ebraica quindi lì tento anche un'analisi di ricostruzione cerco anche di dimostrare che molte particolari sono probabilmente inventate sono frutto di elaborazioni successive il che è che ancora è normalissimo perché è quello che si fa cioè quando in realtà noi crediamo questo vale per tutti crediamo di ricordarci il passato ma quello che facciamo è riempire i buchi della memoria con episodi completamente con dettagli completamente inventati e questo è normale ce lo spiegano gli psicologi funziona così e quindi specialmente eventi traumatici come appunto uccidere gente specialmente a distanza di 40 anni o 50 anni quindi comunque lì c'è tutta un'analisi di questa che è appunto una delle più intriganti e anche una delle più appunto che ha avuto molto successo perché in qualche modo c'è una certa fascinazione con l'idea della vendetta come dimostrato per esempio dai molti film sulla vendetta ebraica che sono stati prodotti negli ultimi 30 anni ecco la vicenza di wikipedia è interessante perché mentre in wikipedia americano o inglese l'anacama appare senza controversie appena se ne raccolgono cioè negli anni 80 cominciano a filtrare le notizie e quindi abbastanza presto quando wikipedia comincia accanto alla voce brigata ebraica appare anche la voce vendetta ebraica l'anacama nella wikipedia italiana c'è più discussione c'è un litigio c'è un editing war appunto l'editing war è quando un contributor di wikipedia fa una entry e quell'altro gliela corregge o gliela cancella allora quell'altro la riscrive e quell'altro gliela cancella alla fine cominciano a discuterne online e si accapigliano su cosa si debba scrivere è molto importante è una sorta di organizzazione democratica wikipedia quindi è molto importante mettersi d'accordo su cosa scrivere forse perché in Italia paese cattolico non siamo l'idea della vendetta non è così non è così apprezzata forse perché appunto come dico nel libro la destra italiana stava usando le storie che emergevano sulla vendetta per screditare la brigata ebraica per dire ecco vedete che cosa facevano ammazzavano la gente a guerra finita c'erano dei siti della destra che l'hanno fatta questa cosa allora alcuni ritenevano che che il fare riferimenti alla nakam alla vendetta fosse una forma di di un tentativo di sporcare la onorabilità della brigata ebraica non credo che questo fosse davvero lo scopo di quelli che proponevano invece di inserirla non ne posso essere certo ma diciamo dalla discussione non sembrerebbe e comunque che alla fine la vendetta c'era stata in qualche forma più o meno pare vero perché appunto gli stessi vendicatori ne hanno ne hanno parlato e hanno rilasciato interviste e poi questa cosa e quindi alla fine adesso c'è la voce nakam anche nella Wikipedia italiana e poi ci sono state delle trasmissioni televisive su questo e anche su questo faccio considerazioni la considerazione finale è che questa vendetta indipendentemente da quanto grande o piccola sia stata non ha avuto molti effetti nel senso che non ha favorito per niente né la creazione di Israele né il ritiro del libro bianco quindi non è servita sostanzialmente a nulla non ha nemmeno portato all'uccisione di nazisti che fossero talmente importanti per cui il loro nome dovesse essere ricordato perché non si ricorda nessuno dei vendicatori si ricorda nemmeno un nome di questi nazisti uccisi è probabile che fossero in realtà pesci piccoli o anche che si sia fatto proprio delle azioni di feppismo alcuni testimoni che erano contro la nakam contro la vendetta parlano di situazioni in cui una squadra di vendicatori si sarebbe messa al lato di una strada e avrebbe indiscriminatamente sparato a chiunque passasse cioè nazisti o non nazisti uomini e donne bastava che fossero tedeschi e e quella era la vendetta ecco quindi anche questo sono testimonianze di cui non possiamo essere sicuri grazie Gianluca comunque è interessante che nel caso italiano la la vicenda della legata ebraica sotto questo profilo appunto della vendetta sia rientrata un po' nella polemica sul sangue dei vinti al fondo di tutto però c'è una grande questione che è appunto la liceità della vendetta oppure la forma della giustizia alla fine di una guerra eh una guerra tremenda una guerra civile e una guerra anche ideologica perché in questo caso ovviamente nello sterminio degli avrei c'è diciamo l'apice della guerra ideologica quindi in realtà questo tema rimanda cioè questo aspetto che tu tratti nel libro rimanda è una grossa una grossa questione di grandissimo interesse e Mirko ha una domanda ci segnala quindi prego abbiamo ancora una decina faccio abbiamo ancora una decina di minuti perché in genere appunto per le diciannove e trenta chiudiamo però dieci minuti li abbiamo ancora prego Mirko no non volevo dilungarmi ma volevo fare una domanda per far emergere un altro dei degli elementi del libro che non abbiamo evidenziato nella discussione registrata Gianluca ci ha parlato già delle forzature diciamo di una parte dell'opinione pubblica italiana che che accusa appunto il sionismo di fascismo ecco però nel libro si parla anche del contrario cioè delle accuse di filofascismo al mondo arabo e in particolare della figura delle mufti e quindi siccome anche questo è un tema interessante gli chiedo di riprenderlo brevemente sì ecco è il corollario della brigata ebraica no se si presenta la brigata ebraica come la brigata che ha combattuto il fascismo e siccome la riproposizione la politicizzazione della brigata ebraica serve a sostenere le regioni di Israele sostanzialmente le regioni del sionismo allora il controaltare è i palestinesi stavano con i nazisti cioè questo è Tukur e allora di fronte al fatto che in realtà molti pochi palestinesi arabi ci sono state delle formazioni di musulmani che hanno combattuto con la Wehrmacht e anche con l'SS però erano musulmani dei Balcani c'è stato qualche caso di arabo-palestinese che quando fatto prigioniero perché combatteva con la divisa inglese è passato dalla parte dei fascisti però molto pochi il simbolo del fascismo dei palestinesi sarebbe questo mufti il gran mufti di Gerusalemme e diciamo su questa vicenda beh io la ricostruisco la vita del gran mufti basandomi specialmente su documenti d'archivio ma anche sulla letteratura disponibile e ce n'è veramente tanta nel senso che gli storici si sono accapigliati sul sul gran mufti che era questo personaggio un po' strano e un po' diciamo anche un po' approfitto diciamo come posso dire una che si approfittava delle situazioni che cercava di barcamenarsi politicamente fra gli inglesi amico degli inglesi e poi nemico degli inglesi uno che era molto in viso ad altri capi arabi perché anche ne ha fatti uccidere parecchi durante la grande rivolta arabo del 36 e 39 la conclusione mia è che il mufti poi andò scappò in Italia e poi addirittura a Berlino e si incontrò una volta con Hitler che rimase colpito dai suoi occhi azzurri apparentemente aveva gli occhi gli occhi azzurri un chiaro simbolo di arianità per Hitler la mia conclusione è che le idee del mufti sono note era un antisionista forse anche un antisemita anche se la cosa a lui gli interessava soprattutto che non ci fosse uno stato ebraico diceva che gli ebrei potevano rimanere in terra santa come minoranza però mai come maggioranza era un nazista perché alla fine sposò le cause del nazismo anche se lo fece alla fine di un percorso per un certo periodo di tempo cercava l'alleanza con gli inglesi poi quando gli inglesi gli era rifiutarono allora scelse scelse il fascismo però non era il capo dei palestinesi perché sarebbe assurdo sostenere il contrario perché i palestinesi erano divisi gli arabi di palestina voglio dire i palestinesi allora erano tutti anche gli ebrei di palestina allora diciamo meglio gli arabi di palestina erano divisi in clan ognuno con il suo capo clan e molti di questi capi clan erano gelosi del mufti e della sua del molto credito che egli aveva presso gli inglesi perché prima di essere un fuorilegge il mufti fu un uomo fidato degli inglesi e quindi lo ostacolavano in ogni modo e quindi quando il mufti scelse una posizione fascista loro diventarono antifascisti in parte per convinzione in parte per reazione giusto per dare addosso per dare addosso al mufti quindi la situazione era molto complessa molto varia variò negli anni tutte cose che non stupiranno gli storici di professione che sanno che la storia funziona esattamente così non è mai semplice è molto complessa ci sono vari partiti c'è chi la pensa in modo diverso e poi le cose cambiano nel corso degli anni adesso la vicenda è anche troppo lunga diciamo per 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 riassumerla tutta però nel libro è abbastanza dettagliata è basata ecco su documenti d'archivio non si può sostenere questa è la mia conclusione che il gran mufti di Gerusalemme fosse il capo degli arabi di Palestina perché questa espressione di per sé non ha quasi nessun senso grazie grazie Gianluca c'è spazio ancora per un'ultima domanda Chiara prego allora chiedo uno sforzo rapidissimo se chiederei se Gianluca può provare a riprendere in maniera molto schematica le diverse stagioni della memoria sulla brigata ebraica che si producono in Israele allora quando la guerra finisce gli uomini della brigata tornano e sono la forza che vince la prima guerra arabo-israeliana non da soli però in larga parte anche perché Ben Gurion fa una scelta precisa di mettere i soldati della brigata a capo di tutte le unità combattenti prima di tutto perché sono stati addestrati dagli inglesi e quindi sanno combattere non c'è niente da fare gli inglesi i soldati li sanno addestrare questo è quello che pensano anche i dirigenti sionisti poi perché sono più affidabili politicamente l'esercito diciamo volontario partigiano la Gana e il Palmak e il Palmak era la forza d'elite dell'Ishuv della comunità ebraica di Palestina è un esercito politico dove i soldati pensano votano dove i capi hanno le loro idee politiche e Ben Gurionno non ha bisogno di gente che abbia le loro opinioni ha bisogno di gente che obbedisca agli ordini allora i soldati della brigata essendo stati istruiti addestrati in un esercito professionale sono più propensi a obbedire quindi li mette a comando delle varie unità e loro si portano molto bene e quindi il mito del guerriero della brigata comincia subito per quello che avevano fatto in guerra ma specialmente per quello che avevano fatto nella prima guerra arabo-israeliana quella del 1948 con l'addare del tempo ben 35 soldati della brigata diventano generali dell'esercito israeliano del vero esercito israeliano quello quello costruito dopo la proclamazione dello Stato di Israele dopo la vittoria della guerra contro gli arabi quindi gli si dedicano monumenti e loro sono i grandi eroi del sionismo loro e i partigiani che hanno combattuto nelle foreste dell'est Europa o che sono morti nei ghetti con le armi in punno loro sono gli eroi e loro devono essere celebrati tutti gli altri no non sono eroi e devono essere dimenticati o comunque non se ne deve parlare il meno possibile quelli che sono morti nei campi di concentramento quelli che non hanno combattuto perché c'è una ostracizzazione proprio per coloro che come si dice si sono fatti condurre al macello senza reagire oppure quel milione e mezzo di soldati ebrei che avevano combattuto mai in altri eserciti per lo più nell'armata rossa per esempio perché quelli erano europei che se fossero stati quindi non era sicuro non si poteva essere sicuri della loro fede sionista perché se fossero stati sionisti si sarebbero già trovati in terra santa allo scoppio della guerra e invece erano ancora in Europa hanno poi si combattuto contro i nazisti ma non hanno lo stesso valore dei soldati che sionisti veri o presunti che sono appunto quelli i partigiani e quelli della brigata ebraica questa cosa cambia quindi c'è questa questo mettere la brigata ebraica sul monumento sul piedistallo questa cosa cambia poi negli anni sessanta con il processo Eichmann quando finalmente la voce viene data ai reduci dei campi di concentramento e si comincia a capire che le forme di resistenza sono tante ci sono anche resistenze passive o anche il semplice eroico atto di resistere nonostante tutto cioè di sopravvivere nonostante tutto è un atto di resistenza e allora lì diciamo il ruolo della brigata viene un po' più sfumato si parla dell'esperienza ebraica molto più nel suo complesso però il mito della brigata ebraica poi riemerge negli anni novanta nel mondo anglosassone come veicolo per rilanciare tutti i miti del sionismo originale i miti del sionismo che sono stati nel frattempo messi in crisi dai new historians tra gli anni ottanta e novanta fine degli anni ottanta inizio degli anni novanta che sono anche gli anni della pace di Oslo anche questo è importante demoliscono i miti storiografici del sionismo quindi non è stata solo la guerra non è stata del 48 non è stata solo colpa degli arabi non è vero che gli arabi se ne sono o non è solo gli arabi non se ne sono solo andati spontaneamente ma sono stati anche cacciati sono scappati perché terrorizzati dagli attacchi delle bande o delle esercite delle bande irregolari o dell'esercito ebraico c'è il famoso Der Yazim e altre stragi che ci sono state quindi i new historians israeliani mettono in dubbio la storia ufficiale la riscoperta della brigata ebraica che i new historians non trattano perché per allora questa brigata ebraica quasi non si ricordava più nessuno serve a riproporre i miti del sionismo in Italia invece la storia della memoria della brigata ebraica è una memoria molto più intima perché è legata quasi esclusivamente a quelli che della brigata ebraica erano stati salvati e aiutati quelli che allora erano bambini per esempio che negli anni 90 pubblicano dei libri di memorie e quindi una memoria molto intima molto poco politica anche sono bei libri da leggere io ne parlo diffusamente però poi c'è di nuovo la politicizzazione della brigata ebraica agli inizi degli anni 2000 per i motivi che ricordavamo prima cioè il fatto della brigata ebraica serve a rilanciare una lettura positiva del sionismo presso l'opinione pubblica italiana e a riappropriarsi del fascismo di nuovo operazioni di per sé anche legittime però bisogna anche dirsi come queste sono state portate avanti e come la storia è stata diciamo riletta reinterpretata a questo scopo succede di continuo diciamo che la storia venga diciamo piegata a esigenze politiche è abbastanza normale ma appunto è compito degli storici farlo presente dire guardate avete fatto appena questa operazione di uso pubblico della storia e io sono qui a dirvelo poi fate voi insomma se si può migliorare se si può discuterne si cerca di arrivare a una storia più condivisa o più più veritiera se no vabbè continuate con le storie di parte posso dire Gianluca che questo lavoro l'hai fatto molto bene quindi te ne siamo grati veramente e possiamo siamo perfetti 19 e 30 possiamo chiudere qui è stata davvero una una bella bella discussione e spero che sia stata apprezzata credo sia stata apprezzata anche da da quanti ci hanno seguito quindi io ringrazio veramente di cuore l'autore innanzitutto Gianluca per per il suo volume per anche la discussione di oggi e poi Chiara Colombini e Mirko Carattieri che hanno animato questa discussione per chiudere do l'appuntamento al prossimo appuntamento il prossimo appuntamento è il 31 marzo giovedì del Parri e discuteremo di un libro appena uscito di Gianluca Falanga non si parla mai dei crimini del comunismo la collana la terza fat checking che questo è un libro credo che si presterà una una bella ampia intensa discussione per cui ringrazio davvero tutti i nostri ascoltatori ascoltatrici e do appuntamento appunto al 31 marzo se posso solo dire sono io e ringrazio tutti voi per l'opportunità e per le domande molto puntuali grazie